John Bourne ragazzi, John Bourne e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti del mercato che farei del Monza Sì ragazzi, mi sono dimenticato, c'è una luce, eh, madonna che luce brutta, ma c'è una luce, eh, che data, guarda che bella, guarda che bella luce ragazzi Oggi andiamo a ricostruire il Monza e andiamo a farlo con 50 milioni di euro Perché 50 milioni di euro? Perché il Monza già arrivando in serie ha più o meno speso quella cifra lì Adesso che è arrivata a metà classifica vorrà sicuramente puntare all'Europa League All'Europa League e quindi noi costruiremo un Monza da Europa League cercando appunto di portarla tra le prime sei del campionato Ovviamente confermiamo a occhi chiusi Palladino che sta facendo molto 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 bene Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare una bordata, tantissimi mi piace ma una marea Se volete ovviamente un altro mercato che farei già oggi, se no ve lo porto domani E noi andremo avanti con i mercati che farei, manca ad esempio l'Atalanta, mancano quelli delle big Il Barcelona, Real Madrid, il Bayern Monaco, il Manchester City E mancano anche tutte le altre meglio piccole, mancano le neopromosse, manca un sacco di gente Quindi mi raccomando manca il Bologna, manca il Torino, manca l'Udinese Mi raccomando ragazzi lasciate una marea di mi piace Prima di iniziare vi ricordo anche di iscrivervi al canale ma forse ve l'ho già detto Allora cosa molto molto importante Questo non è il mercato che secondo me deve fare il Monza ma è il mercato che farei io E visto che il Monza spende tanto e spesso Per quanto mi riguarda questi 50 milioni di euro sono legittimi ma soprattutto sono esenti dai rinnovi Quindi i riscatti non andiamo a contarli con questi 50 milioni di euro Perché erano tutti tipo obbligo di riscatto con la salvezza Sono quindi tutti già messi a bilancio l'anno scorso E invece quest'anno spendiamo 50 milioni per costruire il nostro Monza Altrimenti manco se divertimo Detto questo in porta abbiamo Di Gregorio, Cragno, Lamanna e Sorrentino Ve posso dire guardando la lista sono rimasto un po' basito Perché per me il Monza ha due primi portieri Un secondo portiere e un terzo portiere Cioè Di Gregorio per me non si tocca, non si muove E anche se dovesse arrivare forti offerte io le rifiuterei Perché Di Gregorio quest'anno non solo ha dimostrato di poter tenere in piedi il Monza Ma ha dimostrato di saperlo fare anche con due palle grosse così Quindi per quanto mi riguarda io Di Gregorio me lo tengo Ed è il mio titolare Non sono d'accordo con Cragno Cioè io penso che Cragno al momento Visto che tanto il riscatto è obbligatorio Debba per forza andare al Monza Ma lui in primis non voglia rimanere al Monza per quanto mi riguarda E poi tenerlo non farebbe nient'altro che aumentare la possibilità Che il suo valore stia crollando Quindi io non dico di venderlo a 15 milioni Ma se arrivasse anche un'offerta da 8 milioni E per me è una media del campionato italiano Che offre 8 milioni per un portiere molto forte come Cragno Che però quest'anno non ha giocato mai perché si è trovato davanti Di Gregorio Allora io penso di trovarle Allora io lo vado a cedere 8 milioni di euro monetizziamo E Cragno lo lasciamo partire Voi direte sì che ma chi prendi al posto di Cragno? Ve lo dico con grande tranquillità Nessuno E nessuno perché la manna secondo me è veramente un signor secondo portiere Io non so come abbia fatto addirittura a fare il terzo Ad arrivare a fare il terzo Cioè io capisco che magari non ve la sentire di far giocare la manna come primo Ma quando ha giocato al Genoa E Eugenio la manna ha sempre fatto molto bene Come secondo a me mi dà delle garanzie Quindi personalmente io penso che in quel mondo lì noi siamo a posto Proprio per questo Io in questo momento mi tengo la manna come secondo e Sorrentino come terzo Quindi avremo Di Gregorio la manna Sorrentino Questo vi faccio vedere sarebbe il parco dei nostri portieri E secondo me tutto sommato Non staremmo nemmeno troppo male Anche perché in questo caso avremmo davvero uno dei portieri più interessanti della Serie A Uno dei secondi portieri più interessanti della Serie A E poi il terzo portiere è giovane credo Ma comunque non lo conosco Quindi rimango con Di Gregorio la manna Sorrentino E il bilancio in attivo di 58 milioni di euro Andiamo ai difensori centrali Allora tra i difensori centrali del Monza C'è chi ha preso poveraccio una coltellata a parti dietro al centro commerciale E chi invece rischia di essere stato arrestato Allora vi dico una cosa con molta tranquillità Qua andiamo un attimo per gradi Prima di tutto torna Carboni dal Venezia Ma lo ripresto Non mi sento di mettere la mia difesa in mano a Carboni E quindi lo vado a riprestare Tra l'altro avremo anche un altro Carboni Quindi basta Carboni non li sopporto più Questo lo prestiamo Per quanto invece riguarda Marrone Ha un contratto che scade tra 13 giorni Per me bene così Marrone lo lascio scadere E lo lascio partire Poi Antonov Antonov per me è il nostro quinto difensore centrale Perfetto E quindi me lo tengo Pablo Marie e Marlon sono i miei due titolarissimi Quindi Pablo Marie gioca Marlon gioca Me li tengo Però qui ho ad apprendere un altro difensore centrale Prima però c'è da Diciamo Diciamo Sopperire alla grana Izzo Caldirola Che cosa faccio con Izzo? Che cosa faccio con Caldirola? Allora Al momento La situazione relativa a Izzo Scinde Da quello che farei io Perché? Perché Izzo Ha ricevuto Mi pare Una denuncia Insomma Pare che debba fare Cinque anni di carcere Non so se poi sono stati ufficializzati o meno Ora io Con un Izzo Realmente Fuori da ogni problematica Me lo terrei Tranquillamente Ovviamente se non posso Non posso Quindi io Nel mio cervello vi dico Izzo Lo tengo a fare Il vice Dietro a Marlon E a Pablo Marie Se però ovviamente Gli danno gli anni Di carcere Tutto quanto E bisogna Per forza di cose Perché non si può tenere Non possiamo tenerlo Allora mi tengo Caldirola Altrimenti Caldirola Che ha un contratto Che scade tra meno di 15 giorni Lo lascio andare via E mi tengo Izzo Come panchinaro Detto questo Vi dicevo che bisogna Prendere il titolare Chi prenderei Come titolare Niente meno che Baschirotto Del Lecce Secondo me Sarebbe perfetto Per il Monza Farebbe un salto in avanti È un giocatore Ottimo Sì È abituato alla difesa 4 A Monza dovrebbe giocare Con la difesa 3 Però ragazzi Farebbe comunque Un grande salto in avanti Per me noi prenderemo Il centrale roccioso Che ci manca Perché con Pablo Marie E con Marlon Ci manca Avremo appunto Una Pedina Importante Per quello che Mi sono disegnato Fosse la difesa Del Monza Ma soprattutto Lo pagheremmo 10 milioni di euro Cioè una cifra Che non ci farebbe Strappare i capelli Dalla disperazione E invece ci darebbe La possibilità Di rinforzarci Perché per me Quest'anno Baschirotto Ha dimostrato Di essere Un rinforzo Per tante squadre Del massimo Campionato Panchinaro Per le big Titolare Per le medie Che vogliono fare Molto bene Quindi Baschirotto Io me lo prenderei Molto volentieri E noi in difesa Avremmo Marlon Pablo Marie Baschirotto Antov E uno tra Izzo e Caldara Io ho messo Izzo Col punto interrogativo Ma dipenderà Dalla situazione giudiziaria Altrimenti Caldara E il bilancio inattivo A 48 milioni Di euro Passiamo adesso Ai terzini Partendo dai terzini Sinistri Sulla fascia sinistra Il Monza Carlos Augusto E Carboni Allora a me Carboni Come vice Non dispiace Mi sembra un buon calciatore Questo Carboni E quindi io questo Carboni Me lo tengo Dover accedere O prestare Carboni Per andare a prendere Sul mercato Un altro vice Del titolare Mi sembra una cosa inutile E quindi io Carboni Me lo tengo Ma Mi tengo anche Carlos Augusto Ragazzi Io vi dico chiaramente Ci sono tante squadre Su Carlos Augusto Ma se il Monza Vuole prendere l'Europa League deve tenere Se il Monza Vuole prendere l'Europa In generale Anche la conferenza League vuole confermare Il buon campionato Fatto fino a questo momento Deve tenere Carlos Augusto Che ha dimostrato Di essere un calciatore Straordinario Con dei strappi Superlativi Un calciatore Davvero 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 Forte Che sulla fascia sinistra Ara Qualunque cosa Gli capiti A tiro Quindi personalmente Io Ve l'ho messo Terzino sinistro In realtà Non è un terzino È un esterno Se proprio dobbiamo Io ho scritto Terzini Ma è un esterno Va bene Però comunque Carlos Augusto Titolare Carboni Panchinaro Per me la fascia Sinistra Ce l'abbiamo Ben coperta Con 48 milioni Di euro Ce ne vogliamo Sulla fascia destra E sulla fascia destra Abbiamo Birindelli E Donati Allora Questa mi convince meno Perché vi dico questo? Perché io Il Monza Me lo sono immaginato Con un 3-4-2-1 Sistema di gioco Che delle volte Palladino ha fatto E passano dal 3-5-2 Al 3-4-2-1 Al 3-4-1-2 Io me lo immagino 3-4-2-1 E sulla fascia destra Non mi immagino Ciurria Perché Adesso poi lo vedrete Tra i trequartisti Perché lo vedo più Trequartista Perché quello che chiede Carlos Augusto È un calcio Molto più offensivo Quindi sulla fascia destra Se noi abbiamo bisogno Di giocatori Molto più difensivi Quindi Ciurria Ne parleremo Sulla trequarti E ne parleremo Diciamo a conti fatti O comunque quasi fatti Sulla trequarti Mentre in Sulla corsia di destra Laterale Abbiamo Birindelli E Donati Donati diventerà Un parametro zero Lo saluto E lo ringrazio Invece Birindelli Vi dico la verità A me mi piace A me non si dice A me piace tanto Birindelli Ok? Mi piace veramente tanto Birindelli Però mi piace come Vice Cioè come calciatore Che adesso dovrebbe essere Il titolare Io lo faccio diventare Il primo panchinaro Un po' perché bisogna Comunque migliorare Se si vuole arrivare A salire di altre 4 o 5 posizioni In classifica Un po' perché Secondo me sulla fascia destra Si può prendere Si può prendere un calciatore A mio avviso Sarebbe veramente perfetto Il sistema che sto creando Per la fascia destra Avremo in questo caso Carlos Augusto a sinistra Che è più offensivo Mazzocchi a destra Che fa le sue discese Però comunque Sa fare tranquillamente La doppia fase A destra Avremo quindi Mazzocchi Birindelli E il bilancio inattivo Di 40 milioni di euro Andiamo adesso a vedere I difensori centrali Se c'è uno I centrocampisti centrali E in mezzo al campo Tra i centrocampisti centrali Abbiamo Pessina Rovella Sensi Colpani Ranocchia Barberis Valotti Machin Madonna quanti sono Allora C'è un discorso da fare Io qua li terrei quasi tutti Cioè io terrei quasi il numero E voi mi direte Sic ma perché Te tieni due Te tieni tutti questi centrocampisti Se ne possono giocare due Allora perché Perché Pessina ad esempio Può fare il trequartista Ed è il capitano Quindi può essere impiegato Solo a trequarti Perché ci sono qui giocatori Che possono giocare Solo a trequarti E ci abbiamo due trequartisti O come mediani centrocampisti Ci abbiamo due centrocampisti Quindi sono quattro Giacatori che potrebbero giocare Magari Diciamo Mischiandosi con i trequartisti Insomma Secondo me qua Abbiamo bisogno di un po' di gente Partendo da Pessina Che me lo tengo Titolare capitano Passando poi per Rovella Che invece lo saluto Rovella ragazzi Sì è della Juventus E la Juventus ha scelto Di ripartire Da Rovella Fagioli e Miretti Quindi non vado nemmeno A chiedere alla Juve Fagioli o Miretti Ma insomma Gli ridò a Rovella Mi dispiace Lo sostituiremo Investendo parecchi soldi Però comunque Insomma Grazie a Rovella Per quello che ci ha dato Sensi invece Verrà riscattato Io lo riscatto Me lo tengo volentieri Me lo tengo Tranquillamente Quest'anno si è infortunato Anche poco È un giocatore Che anche lui come Pessina Può giocare da Mediano Da mezzala Da trequartista Mediano un po' meno Diciamo che il ruolo Nei due di centrocampo Del Monza Sia di Pessina che di Sensi Non è quello di Mediano Ma è quello di Diciamo centrocampista Di inserimento Va detto poi però Che Sensi e Pessina Insieme si fa fatica Di immaginarli Colpani Al momento me lo tengo Come Panchinaro Così come mi tengo Ranocchia Barberis Va via a parametro zero Lo saluto a parametro zero Rinfreschiamo Valoti E Machin Me li tengo entrambi Come ultime ruote Del carro Considerando che abbiamo 40 milioni Barberis Non devo Rimpiazzarlo Non lo state sia andato via Devo rimpiazzare Rovella Spendo 20 milioni Di euro E mi porto Dal Sassuolo Maxim Lopez Secondo me sarebbe Veramente un colpo Spaziale E faremo un centrocampo Davvero tanto Tanto forte Con Pessina E con Maxim Lopez Ci rinforzeremo Veramente tanto E questo per me È un giocatore Che tu potresti Riuscire a prendere Perché è vero che Maxim Lopez È forte Lo vogliono in tanti È vero che Frattesi lo vogliono tutti E quindi È difficile che il Sassuolo Divenda sia Frattesi Che magari va Che ne so All'Inter Che Maxim Lopez Che magari in questo caso Va al Monza Però è anche vero Che il Monza Sta facendo meglio Del Sassuolo C'ha più soldi Del Sassuolo Pagge i giocatori Più del Sassuolo E per me c'è un progetto Tecnico Che è superero a quello Del Sassuolo Il Sassuolo Vende e compra Vende e compra Compra e vende Compra e vende Il Monza invece compra Compra e compra E manda via quelli Che non ci fa niente Quindi è un progetto Completamente diverso Credo quindi Che Maxim Lopez Possa essere convinto In questo modo Poi soprattutto Se ti arrivano 20 milioni cash Puliti Subito Immediatamente Senza prestiti Diritti Controdiritti Cazzi e mazzi Insomma secondo me Il Sassuolo Per fare una plus valenza Che si possa definire tale Sarebbe anche Abbastanza interessato Quindi a centrocampo In questo caso Avremmo Pessina Sensi Maxime Lopez Colpanni Ranocchia Valotti Machin E il bilancio in attivo Di 20 milioni di euro Vi posso dire Sono soddisfatto Passiamo ai trequartisti Vi ricordo che qui Sulla trequartina Giocano due E noi abbiamo solamente Ciurria Caprari D'Alessandro E Vignato Perché v'ho detto Solamente Perché secondo me Qua va fatto un colpo Per prendere un titolare Caprari Ci sta E non si tocca Ciurria potrebbe anche giocare Però come vi dicevo prima Per me la fascia destra Sarà sicuramente Alternanza tra Birindelli e Mazzocchi Ma a partita in corso Se si vorrà provare A fare lo step Per passare in Offensiva Andremo a mettere Ovviamente Ciurria sulla destra Quindi in questo caso Io prenderei Almeno un altro Centrocampista Offensivo Titolare E poi ovviamente Mi terrei un panchinaro Vi ricordo che qua Inoltre possono giocare Anche Pessina Sensi Insomma sotto questo Punto di vista Abbiamo L'imbarazzo della scelta Ciurria me lo tengo quindi Caprari me lo tengo assolutamente Caprari l'aveva fatto bene Anche a Verona L'anno prima Ha fatto bene quest'anno A Monza Per me può continuare a far bene D'Alessandro invece Deve lasciare il posto E in scadenza Lo lascio partire A parametro zero Mi auguro che Prima che vedrete questo video I giocatori Di cui vi sto parlando Quelli in scadenza Non rinnovino il contratto Ovviamente Io sono il direttore sportivo Del Monza In questo gioco Che stiamo facendo Quindi se avessi potuto Scegliere io Non avrei rinnovato I contratti E mi dice Eh ma D'Alessandro ha rinnovato Eh non l'avrei rinnovato Non ho io che rinnovo Non l'avrei Gli avrei detto Ciao Ne te ringrazio E andiamo avanti Invece Vignato Come quarto di tre quarti Quindi come panchinaro Tutto sommato Secondo me Non è nemmeno troppo male È giovane È interessante Non è niente Di che Non ha dimostrato Di essere niente Di che fino a questo momento Non parliamo certamente Di un top player Partirebbe come quarto Però devo dire Che tutto sommato Un calciatore come Vignato Io come quarto Me lo terrei Detto questo abbiamo perso D'Alessandro Ciurria diventa il panchinaro Di questa tre quarti Che però può giocare a destra Chi farei giocare Vicino a Caprari Sulla mia tre quarti E beh ragazzi Baldanzi Dell'Empoli Baldanzi Dell'Empoli Stiamo facendo un mercato Proprio secondo me Da Monza Come ha fatto lo scorso anno Andando a prendere Giocatori interessanti Che giocano in squadre Che potrebbero darti Potrebbero darti questi giocatori Adesso noi abbiamo addirittura Rispetto allo scorso anno Che eravamo una neopromossa Acquisito un certo tipo Di valore Di qualità Quindi non mi sorprenderebbe Appunto se il Monza Andasse a comprare Dal Lecce Dal Sassuolo Dall'Empoli E Baldanzi Lo pago 20 milioni di euro Per questo qui sotto È sparito tutto il budget Abbiamo investito Tutti i soldi che avevamo Io credo che Baldanzi Faccia proprio al caso nostro Cioè sia proprio perfetto Per noi Baldanzi Ha un piccolo Di balla italiano Ok Quindi è un trequartista Che si trova benissimo Con la doppia trequarti Da Empoli a Monza Farebbe indubbiamente Il grande salto Ora Il discorso qual è Che Baldanzi Ha la possibilità Secondo me Di andare anche in un top club italiano Quindi che sia un Inter Un Milan Un Napoli Una Juve Non lo so Vedremo quello che succederà Però qual è il discorso Che lì Nelle squadre che vi ho appena citato Farebbe tanta panchina Perché non è ancora forse pronto Il Monza È Quello step intermedio Che ti fa dire Non sto andando in un top club Ma sto andando in un club Che punta a diventare top E io Da loro posso essere Il leader E il calciatore rappresentativo Se Baldanzi Dovesse fare molto bene Magari a fare una doppia O in gol O in assist Questa stagione Che sta per arrivare A Monza Quindi con un Monza Che magari riesce a fare Quello che vi dico io E quindi riesce a prendere Il piazzamento europeo Che sia Europa League Che sia conferenza di gol O comunque lottarselo Ecco allora Per me Baldanzi L'anno prossima parte Andrebbe a valere 45-50 milioni Ma poi lì sarebbe pronto Per fare il titolare In una grande Un po' come magari Potrebbe essere successo In passato per Barrella Al Cagliari Che O Nengolan stesso a Cagliari Mi viene in mente Stagione dopo stagione Ha dimostrato Di poter giocare In quella dimensione lì Detto questo Quindi sulla tre quarti Noi avremo Ciurria Caprari Baldanzi Vignato Il bilancio a zero E ce ne andiamo Tra le punte Per quanto concerne Il discorso Relativo alle punte Qui abbiamo Mota Dani Mota Petagna Gitkier E Maric Allora Io vi dico la verità Maric Lo lascio partire in prestito Perché per me Può tranquillamente Andar via Detto questo Qui Al momento Ci gioca solamente Un attaccante Qualcuno ha parlato Del fatto che il Monza Avrebbe voluto Prendere una punta Di riserva Cioè una punta Di dolare Perché Questi hanno segnato Vogo E come ragionamento Ci stava Però io Nelle ultime giornate Allora Gitkier mi va benissimo Come terzo Ve lo dico Non c'è bisogno Di spendere Petagna Ha un diritto Di riscatto Che è diventato Obbligo Per forza E quindi Petagna Ce lo teniamo Come secondo Ora In questo momento Ho fatto un investimento Importante per Petagna Inoltre Dani Mota Carvaio Nel finale di stagione Hai iniziato a segnare Con una costanza Importante E Mota Ti dà il valore Di poter giocare E da punta E da trequartista Quindi tu Con questa Con questo parco Attaccanti Considerando comunque Che Maric Lo abbiamo Mandato via Tu con questo parco C'è chi titolare C'è Come secondo Tu saresti Comunque Molto coperto Per questo Io con gli attaccanti Mi terrei Da Nimota Petagna Getkier E non farei Sotto questo punto di vista Davvero Nient'altro E quindi E quindi vi dico Di andare a dare un'occhiata Alla formazione Che ho creato Del Monza Da 3 4 2 1 Di Gregorio Tra i pali Il mio portiere Con ovviamente Il secondo Che è la manna Centrali di difesa Baschirotto Pablo Marì E Marlon Va capito poi Il discorso Se c'è Caldara Come primo panchinaro O se c'è Izzo Però comunque Caldara anche quest'anno Ha fatto molto molto bene Lo farei partire A parametro 0 Per un discorso Anche d'età Ok per un rinfrescamento Della rosa Però insomma Se c'è il problema Di Izzo Mi tengo Caldara Pessine E Maxime Lopez In mezzo al campo Titolari E non dimentichiamoci Che qui come panchinari Comunque avresti Sensi e colpani A destra Gioca Mazzocchi Sulla tre quarti Baldanzi e Caprari Con Ciurria Che può giocare Sulla tre quarti Con Ciurria Che può giocare A destra Danimota Carvaglio Punta Con Danimota Che può giocare dietro Petagna Che può giocare davanti Insomma secondo me Avendo fatto Comunque come acquisti Alla fine Baschirotto Maxime Lopez Mazzocchi E Baldanzi Quattro acquisti In totale Abbiamo preso tutti i giocatori Che giocano in squadre Meno forti del Monza Che però sono veramente Veramente forti Come giocatori E che secondo me In qualche modo Nella squadra Lombarda Potrebbero davvero fare La differenza Io vi ho costruito Il mio Monza Adesso ovviamente La palla passa a voi E voi mi dovete dire Che cosa avreste fatto Iscrivetevi al canale Lasciate tantissimi mi piace Io vi ringrazio Per aver visto questo video Boccia lalla E noi come sempre Ci vediamo ad un prossimo Video Ciao 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 Ciao